Si scrive OGD, ovvero Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica. Si legge Alto Piano dei Sette Comuni. Una delibera della Giunta Veneta ha ufficialmente riconosciuto il nuovo soggetto nato per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo nella regione. Si tratta in soldoni del primo mattone verso una gestione condivisa del turismo in Alto Piano. Una porta aperta sul futuro in cui offerta, gestione, informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici possano veicolare l'intero territorio e le sue bellezze. La nuova OGD è composta da Unione Montana, spettabile reggenza dei Sette Comuni, i Comuni di Asiago, Fozza, Roana, Lusiana, Conco, le associazioni di categoria agricole e commerciali, le proloco, il volontariato e altre componenti private coinvolte comunque nel turismo e nel tempo libero. L'idea è quella di fare sistema per un coordinamento turistico che vada oltre i singoli comuni per potenziare la destinazione turistica. Far parte di un OGD, infatti, vuol dire partecipare a strategie e a visioni condivise con il territorio per potersi posizionare al meglio sul mercato. Importante anche la presenza allo stesso tavolo di pubblico e privato assieme ai portatori di interesse, al fine di strutturare una politica turistica in grado di coprire tutto il territorio. Nell'esprimere la sua soddisfazione e quella dell'amministrazione regionale per questo primo passo, l'assessore Veneto al turismo Federico Caner ha auspicato che questa visione si allarghi nei prossimi mesi ad altri soggetti e istituzioni per rendere sempre più attrattivo un territorio che non ha nulla da invidiare ad altre mette di montagna.